Allora, siamo tutti d'accordo? Facciamo questo minuto di silenzio? Sì. Allora, a partire da questo momento. Ad annunciare il minuto di silenzio per tutte le vittime del Covid-19 nel mondo è il presidente del Consiglio Comunale di Civitella in Valdichiana, Pierluigi Bacconi. Un consiglio, il primo in assoluto in provincia di Arezzo e forse anche oltre i confini provinciali a tenersi via Skype per evitare l'espandersi del contagio da coronavirus. Un consiglio che dopo un confronto con la prefettura di Arezzo è stato reso possibile grazie ad una specifica ordinanza del sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti. Vediamo se tutti insieme, con l'impegno di tutti, riusciamo davvero a limitare questi spostamenti e a cercare di far rallentare questo enorme problema e questo enorme virus. Presenti in aula, oltre a Bacconi e Menchetti, anche i due assessori, Capaccio e Tavarnesi, mentre i dieci consiglieri erano tutti collegati via Skype. La pratica più importante all'ordine del giorno è l'approvazione della manovra finanziaria dell'ente e il bilancio di previsione 2020-2022. Il momento della votazione non è stato anch'esso semplice, vista la non presenza fisica dei consiglieri. E così il presidente del Consiglio ha chiamato singolarmente ogni consigliere ad esprimere il proprio parere. Ora, per questa sera le votazioni si svolgeranno nel modo seguente. Verrà fatto l'appello, io chiamerò ognuno di voi e ognuno di voi mi risponderà dicendo favorevole oppure contrario oppure astenuto. Allora mettiamo in votazione Menchetti, favorevole, Amadì, favorevole, Bacconi, favorevole, Faralli, favorevole, Lodovichi, favorevole. Il dato politico più importante che è uscito da questo Consiglio, oltre alla buona volontà di realizzarlo con queste modalità, è stata l'approvazione e l'unanimità del bilancio. Fatto più unico che raro che la minoranza voti la manovra finanziaria dell'avversario politico. Segno evidente della bontà del documento e dell'azzeramento, come è giusto che sia, della schermaglia politica in questo momento storico così difficile e delicato. Un atto di responsabilità, insomma, e di buona politica da cui prendere esempio.